gildarella che ci prepari oggi ciao ciao allora oggi preparo il polpettone di tonno a modo mio come faccio io buono allora dai io a me mi piace come faccio va bene qui c'è sono cinque scatolette di tonno quelle di 80 grammi l'una l'ho tutte belle sgocciolate e l'ho messa nel piatto va bene adesso metto queste sono tre fette di pane al latte quello quadrato ok che io ho bagnato e adesso lo metto qua dentro va bene ecco qua bagnato e strizzato e strizzato certo poi metto due uova uno meserotto vabbè non fa niente ecco qua due uova poi metto questo è 100 grammi di parmigiano eccolo qua metto tutto dentro poi ci mette un po di pepe perché non deve mai mai deve mancare vai senti come allora poi qui metto una manciata di pangrattato eccolo qua guardate questo era una bella manciata quanta grammi ecco qua e adesso giriamo il tutto adesso con la forchetta poi con le mani allora ragazzi io il sale ne metto proprio un aggiuntino ma proprio poco poco perché il tonno è parecchio è bello saporito sino dopo che diventa salato però voi se mangiate saporito mettete lo mette dell'altro pizzico amori miei amori suoi ecco qua vi faccio un porpettone a modo mio buono non vuole mai girare vai a e che della amo pa faccio vedere guardatela quando impasta mamma mia ti è ecco vedete cosa hai messo qui faccio vedere ho messo un po di pangrattato eh ecco ho messo questo qua perché quell'altro l'ho finito tutto vabbè comunque voi poi mettete il pangrattato normale o quello che avete è quello che c'è vede non c'è problema che non fanno tutti sti pangrattati grossi piccoli colorati beh però sono carini sono con certo eccolo quello che gildarella vedete ecco fatto vai spalma bene gildare capito l'importante eccolo questo è vedete però voi mettete quello che vi pare non c'è problem andiamo a vedere cosa fa gildare allora questi sono un barattolino di sottaceti che io ho strizzato benissimo vedete eccoli qua e adesso l'ho messo oppela ha lanciato no mi sei rivolgato ecco qua che metto sopra così vedete questa è una fogliorina via ecco allora poi ci mettiamo due olivette questo è a modo mio quando erano piccoli loro io lo facevo e lo portavo al mare mamma mia tutto bello affettato spettacolare guardate ecco qua olivette fate a occhio voi poi ragazzi se voi non ce la volete mette sta roba non ce la mettete certo perché mi piace a chi non piace e magari che ne so io lo faccio così però così è buonissimo però a loro gli piace io poi sottaceti non è che si sentono tanto no e adesso piano piano rigirano questo polpettone ecco qua vedete piano pianino e e polpettone è così e beh delicatamente certo c'è stata la linea vai ficca dentro giudare questo è buonissimo potete fa come antipasto come secondo una pericena quello che vi pare una festa insomma poche parole dai allora io adesso lo chiudo lo tengo stretto stretto chiuso bene vedete ecco qua e lo chiudiamo così perché pacchettino regalo eh come se fate in pacchetto regalo vedete adesso lo mettiamo ecco sopra la carta forno lo rimettiamo ecco qua ecco qua vedete adesso eccolo qua vai gildarè ecco 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 io c'avevo i fogli di carta forno però magari serviva quello in rotolo va bene ecco guardate adesso chiuso bene eh adesso lo metto qui nella carta argentata ecco 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 qua ecco qua eh adesso l'ho messo dentro l'acqua a fuoco medio e lo faccio bollire per 40 minuti ecco 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 guardate un po' che meraviglia allora mi raccomando dopo quando è cotto fatelo freddare bene ok allora andiamo col taglio va prima scartato e poi freddato oppure direttamente no non lo devono toccare niente ok lo dovete far freddare bene dopo lo scartate e adesso andiamo col taglio guardate quanto è carino guardate anche ma quanto è buono eccolo poi io ci metto un po' di maionese sopra e me lo mangio ah 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 gildare mi raccomando questo fatelo perché è proprio buono mo l'assaggio pure guarda un po' e certo noi volemmo di la faccetta tua soddisfatta eh buono gildare mmm e che ve lo dica fa qua va uno spettacolo allora facciamo sti salutini ecco qua oggi salutiamo vai gildare allora Anna Mastrullo dalla Francia ciao Anna un bacio un bacio poi poi Angela Gentile da Zurico ciao Angela un bacione Alessandra Corbelli dal Molise ciao Alessandra un bacio poi poi Maria Renna da Anzio ciao Maria bacio poi Elisa Orlando da Alghero Sardegna ciao Elisa un bacio ciao Elisa un bacio Angela Annuzzi da Erlangen Germania ciao Angela ciao Angela a Gerlanda casa ciao Gerlanda un bacio bacio a tutte Maria Rosaria Maria Rosaria gelano da Modena ciao ciao Maria Rosaria bacio bacio allora Graziella Biciotti da Vasto Girardi provincia di Isernia ciao Graziella bacio ciao Graziella e adesso e adesso sono belli mia mi raccomando fatelo perché è buonissimo questo è un piatto freddo eh poi cedite pure se vi è piaciuto va bene lo portate pure al mare certo tempo permettendo che qui questo omaggio pare natale mmm le olive con i sottaceti quello è a piacere vostro eh se ce li volete mettere eh se no potete anche non metterli va bene va bene amori un saluto a tutti dalla cucina di GILDA mi sono imparata a fare il cuore mi sono imparata a fare il cuore eh ciao belli dal cuore